Buongiorno a tutti, ragazzi, ragazzi, siamo già un po' troppo lunghi nei tempi, quindi in breve, ragazzi, grazie, non ci siamo, infatti con massimo silenzio. Grazie. 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 Pari. Grazie. 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 7.24 sono finito in perfezionale. 2.0. 9.6. Grazie. Grazie. Cambio. 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 12-7. Cambio. 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 A 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